www.marizopoli.it, Bando Nuova Imprese 2024, l'Aggiunta regionale della Lombardia ha deliberato i nuovi criteri dell'edizione 2024 del Bando Nuova Imprese, che poi vi riporto qui il link. Chi può partecipare? Le piccole imprese e i lavoratori autonomi, con partita IVA individuale, iscritti al registro delle imprese, con domicilio fiscale in Lombardia, con inizio di attività 1 giugno 2023. La generazione consiste, un contributo a fondo perduto appare al 50% delle spese ritenute ammissibili, nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti devono prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. Quindi vi riporto poi i criteri del budget di cassa, le spese in conto capitale e in conto corrente, e soprattutto quali sono le spese ammissibili che vi riportate nel Bando. Una buona lettura, a presto! Grazie!